L'ultima. 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 Questa serata di wrestling fa parte di tutti quegli eventi che noi organizziamo, per cui io passerei sicuramente direttamente la parola all'assessore Cavaterra perché vogliamo ringraziarla per il patrocinio che il Comune ci ha dato. E dopo di che vorrei che parlassero di più sicuramente tutti i rappresentanti dell'ICV Wrestling perché descriveranno al meglio la serata che è la cosa più importante per far divertire tutte le persone che verranno quella sera. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Siamo riusciti a metterlo in piedi dopo due o tre anni in cui ci stavamo lavorando e per varie vicissitudini purtroppo non eravamo ancora riusciti ad arrivare. Adesso ci siamo finalmente e voglio dirvi che piatto forte della serata che si andrà a vedere il 16 di febbraio sarà il main event e sarà quindi il titolo italiano di wrestling. Attualmente detenuto dal lottatore geneticamente modificato OGM, lottatore italiano dalle strepitose doti fisiche di potenza, un lottatore che mette anima e corpo in tutto ciò che fa sul ring e fuori dal ring. Il suo avversario sarà un avversario temutissimo dai wrestler italiani, lui è il Viscido Cobra, un lottatore bergamasco di origini bergamasche, due volte ex campione italiano di wrestling, che con le sue scorrettezze, lui è un lottatore vicido, mette in atto qualsiasi stratagemma per poter arrivare a vincere il match e portarsi a casa il titolo. Ma questa volta troverà sul ring un campione, il campione italiano, che sicuramente non si farà mettere sotto i piedi da lui. Andando avanti con la serata, perché questa serata prevede sei match, ci sarà forse il match più atteso dalla cittadinanza saronnese e da tutta questa zona, perché sarà un match che vedrà contrapposti l'idolo di casa, cioè Lupo Michele Vario, nato a Garbagnate milanese ma cresciuto a Saronno. Quindi lui sarà l'idolo di casa, lui è un ragazzo che è cresciuto a Panne Wrestling, è cresciuto sui ring di tutta Italia, ma gli ha lottato su tutti i ring italiani e quella sera, quindi il 16 di febbraio, metterà tutta questa sua energia, questa forza, lui è soprannominato la forza della natura, contro un lottatore scultoreo, marmoreo. Lui è lo spirito di Sparta ed è shock, direttamente dal Veneto avremo questo lottatore, che è un lottatore carismatico, è un lottatore grosso, potente, ma grosso dentro, è veramente una potenza e anche lui cercherà di mettere i bastoni tra le ruote a Lupo, ma Lupo penso che avrà la possibilità e sicuramente sarà in grado di poter sopraffare a questo tentativo di shock, di fargli fare una brutta figura a casa sua. Altro match della serata che ci vedrà portare un certo tipo di wrestling a Saronno è il match tra il fenomeno della ICW, il fenomeno italiano, il diavolo volante, lui è Red Devil, quattro volte ex campione italiano di wrestling. In questo weekend lui sta lottando, ha fatto un match ieri sera e uno ce l'avrà domani sera in Irlanda per difendere i tricolori italiani. Quindi vedremo questo match tra Red Devil contro il qui presente Goran, il barbaro. Lui, quella sera, dovrà a tutti i costi riuscire a riportarsi a casa la cintura di campione interregionale. Questa cintura, in tempo passato, poche settimane fa, è stata resa vacante dal direttore generale della ICW, Manuel Orlandi, nonché suo manager, uomo, oserei dire, che applica delle scorrettezze per poter avere nel suo palmarès dei suoi lottatori tutti i titoli possibili. È stato reso vacante questo titolo dall'arbitro internazionale di quella sera, di quel match, Enrico Boneschi, per varie motivazioni, perché c'è stato un doppio schienamento e il regolamento della ICW prevede che con un doppio schienamento, con un titolo in paglio, il titolo venga reso vacante. Quindi io vorrei lasciare un secondo, prima di riprendere la programmazione della serata, un attimo la parola a questo lottatore, a questo atleta, per vedere che cosa avrà da dire, perché questo titolo non è tuo, ricordatelo, almeno fino al 16 di febbraio. Questo titolo è mio e io non devo dimostrare niente a nessuno. Stai calmo. Questo titolo mi è stato rubato. Io non ho perso quel match, quindi il titolo è ancora mio e questo è ancora nelle mie mani. No. Il titolo non è stato reso vacante da Orlandi, come... Non è stato reso vacante dall'ICW. No, dall'ICW, da un albitro. Un albitro. E questo titolo è mio e il match che avrò contro Red Devil, Red Devil, bla bla bla, quattro volte ex campione italiano, ex. Ex vuol dire che ha perso. Io ancora no. Ex. Io ancora no, cos'è una sfida? E a Saronno, oltre che a riprendermi questo titolo, riprendermi, che è già mio, obbligherò Red Devil ad ammettere davanti a tutti che questo titolo è mio e io sono il più grande attuale campione interregionale di sempre. A me piacciono queste parole perché denota comunque questa voglia di questi atleti di poter portarsi a casa i titoli, ma ti ricordo che l'arbitro è un arbitro internazionale, fa parte della federazione, ha reso vacante questo titolo, quindi tu attualmente non sei detentore del titolo interregionale. Ricordatelo. Vorrei, puoi rimetterlo qua cortesemente, vorrei andare avanti adesso con la presentazione della serata. Altro match in programma quella sera sarà un match dove vedremo salire sul ring un nuovo acquisto della ICW. Un lottatore che arriva da una federazione ai tempi crescente in Italia, entrato in ICW poco tempo fa. Questo lottatore è un lottatore molto inquietante. Il suo nome è Incubo. È un lottatore sempre facente parte della squadra di Manuel Orlandi. Quindi è un lottatore che adotterà anche lui probabilmente qualche stratagemma pur di riuscire a vincere quel match. E lo vedremo contrapposto quella sera contro il lottatore che in gergo è definito un luciador. Un luciador, un lottatore mascherato. Questo lottatore è un lottatore fenomenale nella ICW. Un lottatore che ha vinto tanto in federazione, ha vinto tanto anche a livello europeo. Lui è el tecnico. Lui è un lottatore esponente dello stile messicano della lotta, del catch, del wrestling. Quindi avremo modo di vedere delle evoluzioni su quel ring che solo i grandi atleti, solo coloro che sanno fare veramente questo sport, riescono a mettere in atto. Altro match della serata sarà un match di coppia. Un match di coppia valido per il titolo italiano di coppia. Gli attuali detentori, gli epici eroi, questa squadra costituita da Nemesi e Omega, dovranno difendere la loro cintura di campione italiano di coppia contro, ormai oserei dire, i loro rivali ormai dichiarati, il ciclone latino. Il ciclone latino è composto da due lottatori che non hanno alcuna remora, anche loro, ad applicare delle regole a modo loro. Questi due lottatori del ciclone latino sono Tempesta e Raffaele. Sono due lottatori scultorei, sono due lottatori che hanno voglia di dimostrare che sono loro i migliori. Ma gli epici eroi, i campioni in carica, coloro che detengono la cintura di campione italiano di coppia, daranno del filo da torcere a questa coppia. Dopodiché avremo uno dei match, secondo me, più atteso della serata. È un match che in federazione nel mondo del wrestling stiamo tentando di fare ormai da diverso tempo. È un match singolo che vede due campioni affrontarsi. Uno è il campione italiano dei pesi leggeri, Corvo Bianco, un lottatore definito l'intelligenza suprema della ICW, perché lui pensa che con la sua intelligenza, col fatto che lui applichi delle mosse particolari al limite del consentito, riesca a sopraffare il campione europeo dei pesi leggeri, campione UEVA, Doblone, il Pirata. E ora voglio lasciare un attimo la parola a lui per descrivere che cosa sarà quel match quella sera qui a Saronno. Un match diverso dal solito, visto che avremo due cinture, una sola verrà scelta di mettere in palio, una sola cintura sarà in gioco quella sera e verrà deciso la sera stessa alla monetina, classico all'italiana. Si lancia la monetina, testa cintura europea, croce cintura italiana. Cosa c'è dietro? Non è un match che viene adesso, c'è un anno di storia. Da maggio dell'anno scorso io e Corvo ci affrontiamo ogni singolo evento, perché? Perché entrambi vogliamo dimostrare di essere il miglior peso leggero in Italia, per quanto mi riguarda in Europa. Avere due cinture significa avere due campioni, a entrambi non sta bene, ne vogliamo uno. Questo è quello che penso io, quella cintura era mia, l'ho persa per andare a prendere questa, ok? Adesso la rivolgo. Due cinture, un campione. Per lui mi sembra ovvio. Questa cintura non è pezzo di latta, è Oslo, Madrid, Berlino, Lisbona, tutta l'intera Europa. Da Lisbona a Mosca, ok? Istanbul, Norvegia, qualsiasi posto, ok? Questa cintura è prestigio, è denaro. Vuol dire essere chiamati, vuol dire essere pagati, alloggio, vitto, tutto, trasporto, tutto. Vuol dire essere viziati quando si va all'estero. Ed è una gioia averla, personalmente, ed è una gioia averla in Italia, perché è un lustro che poche federazioni si possono permettere di avere un campione europeo in casa. e io a tutto questo non ci rinuncio. Spero che venga fuori dalla mattina la croce della cintura italiana, per egoismo, perché io voglio dimostrare di essere migliore. Ma se dovesse uscire questa, corvo bianco, posso dirlo? Attenzione. Con la coda spennata, facciamo così, a calci. Sei stato bravo, dai. Sei stato bravo. Quindi, volevo chiudere un attimino questa presentazione di questa serata, dicendo appunto che l'appuntamento sarà per il 16 di febbraio a Saronno, al Paladozio, alle ore 21 inizierà questo show, questo sport spettacolo, e invito tutti, e dico tutti, grandi e piccini, a non imitare mai e poi mai questi atleti con le loro mosse. Perché per fare questo sport, e sottolineo sport, ok, ci vuole disciplina, ci vuole tecnica e ci vuole tanto allenamento. Quindi, per chiudere con una frase mondiale, don't try this at home. Ok? Buona serata a tutti. Beh, credo che il signor Corti abbia spiegato nei dettagli come sarà la serata. Oddio, io mi sono già agitata. Con lui, aiuto. Comunque, allora, veramente, io spero che i giornalisti possano darci una grande mano per quanto riguarda il nostro progetto, e sapete, è importante. Lo spettacolo direi che deve essere qualcosa di fenomenale. Prima volta a Saronno. Aspettiamo tutti con grande gioia. E speriamo di fare veramente più che il pieno, per cui di mandare a casa la gente che non possa entrare. Grazie.